In questo video ti presento ben 7 hack di marketing, di web marketing, di online marketing, di quello che ti pare ma che sono utilissimi a noi piccoli professionisti, a noi liberi professionisti, a noi imprenditori che abbiamo un'attività locale oppure che abbiamo semplicemente un'azienda perché mi interessa particolarmente aiutarti ad esempio a trovare determinate mail o i numeri di telefono oppure le attività social, i link proprio delle pagine social dei tuoi concorrenti o per fare un'indagine di mercato allora addentriamoci immediatamente in quella che è la scaletta di oggi. Al primo punto andiamo a capire che cos'è un hack e soprattutto come lo possiamo utilizzare ovviamente al punto numero 2 non mi resta che farti vedere l'hack che ho disegnato per te oggi e ti invito a restare fino alla fine perché sono certo che gli approfondimenti che ho pensato per questo video ti piaceranno moltissimo perché oh l'automatiker è futuro automatiker, io mi chiamo Stefano e ti do il mio personalissimo benvenuto in Automatiking, la prima è Unica Academy che in Italia e in Europa si ti aiuta a mettere il pilota automatico al tuo business se non sai da dove iniziare ma vuoi iniziare gratis inizia dalla nostra newsletter automaticin.com slash gratis ti ci iscrivi e ricevi ogni settimana ben tre strumenti di automazione che ti aiuteranno a vendere di più senza stress grazie alle nostre fantastiche automazioni di business e allora andiamo a farti determinati proprio esempi di che cos'è un hack e di come lo puoi sfruttare in generale un hack è un trucchetto, una scorciatura, un qualche cosa che ti farà risparmiare tempo, soldi, energie, tutte quelle cose che sono rognose da fare che magari dovresti fare a mano e che invece un hack ti permette di tagliare via perché lo fa normalmente un robot oggi utilizzeremo tre piccoli strumenti, tutti che hanno un piano gratuito e che cosa ti possono aiutare a fare mi chiederai molto semplice, ad esempio metti che stai facendo un'indagine, un'indagine telefonica e vuoi trovare dei numeri di telefono ecco molto bene potresti farlo a mano, visitare tutte le pagine web ti insegnerò a farlo con un hack appunto rapidissimo e anche gratuito la seconda cosa che potresti fare è per esempio vorresti capire come migliorare il piano editoriale dei tuoi social di Instagram, di LinkedIn, di YouTube ebbene vorresti studiare determinati concorrenti, ebbene anche in questo caso te lo farò fare gratis con un piccolo bot e altra cosa che potresti fare per esempio vorresti cercare le email di potenziali clienti, di competitor, di attività attorno a te per fare attività di co-marketing, per lanciare delle campagne pubblicitarie e targettizzarli insomma, bando alle ciance, ciancio alle bande, si possono fare tante cose fighissime tre piccoli strumenti, un'unica diciamo automazione ma con tanti tanti usi allora andiamo a vedere quello che è il primo strumento di oggi è un'estensione di Chrome completamente gratuita che si chiama SEOquake di che cosa si occupa? Normalmente si occupa di SEO ma noi la utilizzeremo per un aspetto specifico quindi la prima cosa da fare è andare a scaricare SEOquake trovi tutti i link di tutto il materiale in descrizione quindi non c'è da impazzire quindi la prima cosa che andremo a fare è scaricare SEOquake la seconda cosa è andremo su zio google, sulla home page andremo nella parte delle ricerche noi andiamo a cercare ad esempio vediamo, 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 vediamo se troviamo qualche cosa guarda, per esempio, ristorante Roma ok? Faccio un esempio ok? E quello che dovremmo andare a fare è andare nella parte delle impostazioni visualizza tutte le impostazioni e andare a settare questo range a 100 ok? Ricordati che devi scorrere tutta la pagina e salvare altrimenti questa robetta qui è inutile perché vogliamo mostrare 100 risultati di ricerca appunto nella stessa pagina, nella stessa ricerca perché il plugin che abbiamo installato l'estensione di Chrome che abbiamo installato che si chiama SEOquake andrà a scaricare tutte per esempio i ristoranti di Roma in un file CSV mi potresti chiedere Stefano ma che cos'è un file CSV? molto semplicemente è un Excel universale quindi io lo scaricherò direttamente qui questa è fatta prima automazione primo strumento installato seconda cosa che devi fare installata perché semplicemente dovevi mettere il limite al 100 il terzo strumento e cuore pulsante di questa automazione è Phantom Buster ne abbiamo parlato in questo tutorial dove ti raccontavo che per esempio potevi aumentare i tuoi follower di Instagram di YouTube di LinkedIn di Facebook potevi andare a prendere una serie di informazioni se vuoi il tutorial è dettagliato lo trovi qui in alto in descrizione oggi lo utilizzeremo appunto per andare a scandagliare il web andarlo a cercare un pochettino sulla base dei risultati che tu hai scaricato per fargli fare una cosa specifica che si chiama data scraping che cosa fa questa operazione? appunto estrae indirizzi email numeri di telefono e informazioni dei social media da ogni pagina web in pratica tu gli dai un link e loro questo software questo Phantom Buster ti ridà indietro le informazioni che tu vuoi tu gli dai un link e lui ti ridà il numero di telefono tu gli dai un link e lui ti ridà indietro il numero di telefono e l'email e i canali social te lo faccio vedere fra un secondo prima guardiamoci un attimino negli occhi gli usi che devi fare di questa automazione li scegli tu ma quello che io ti consiglio che siano usi etici per esempio puoi andarti a prendere il numero di telefono puoi andarti a prendere la mail lo fai in automatico ma questo non ti dà diritto a fare telefonate inutili proprio che molestano che danno fastidio alle persone oppure di mandare email a freddo è un corso quello in realtà delle mail a freddo perché come ti ho detto Automaticing e ti faccio vedere anche la grafichetta è la prima e unica biblioteca delle automazioni che si trovano academy.automaticing.com non ce ne sono altre che ti possono aiutare al mondo altre realtà che ti possono aiutare a sistemare quegli aggetti proprio le cose più noiose della tua attività ebbene c'è proprio un corso che si chiama vendi con le mail a freddo te lo metto in descrizione che ti aiuta a utilizzare in maniera sana etica appunto le mail a freddo non ti consiglio di farlo se non sai di che cosa si tratta e soprattutto se devi fare spam e dare fastidio alle persone ok? adesso che ci siamo capiti ti faccio vedere come funziona questa automazione in pratica io qui ti faccio vedere un pochettino c'è anche un video di approfondimento se ti interessa ti dice che puoi cercare determinate cose che sono sostanzialmente dargli in pasto un file url oppure quindi un link oppure un file con una serie di link se non vuoi fare in modo che gli devi mettere un link alla volta cioè tu puoi decidere di dargli un link alla volta e fargli cercare il numero di telefono saresti pazzo o pazza oppure gli dai un file con tutti i link di queste pagine che abbiamo cercato e gli fai cercare in una sola volta i numeri di telefono e allora indovino un po' perché abbiamo installato SEOquick perché questi risultati tu ce li hai già qui in questo file ok in questo momento lui ha cercato eccolo qua questo qui ha cercato guarda 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 100 risultati di ristoranti a Roma noi che cosa facciamo lo andiamo a selezionare tutto lo andiamo a copiare e lo vogliamo andare a incollare all'interno di questo documento io qui ne avevo preparati già degli altri perché adesso ti farò vedere un test ma di base tu basta che copi incolli ok una volta che è incollato in questo file ovviamente adesso ti faccio vedere magari un po' più grande lo mettiamo in grande ma la cosa interessante dobbiamo andare a eliminare la prima colonna perché lo stiamo mettendo in un foglio di Google e non lo stiamo mettendo in un file locale perché noi vogliamo collegare al nostro Phantom Buster il nostro la nostra fonte vogliamo dire a Phantom Buster vai a cercare nel nostro documento Excel tu uno per volta tutti i link e di questi ridami mail, numero di telefono e social ok? te lo faccio vedere in pratica perché è molto più facile a dirlo e a farlo noi qui abbiamo ad esempio il link abbiamo appunto una serie di informazioni questo strumento SEO Quexy integra benissimo con Semrush se non sai che cos'è Semrush è uno strumento fighissimo potentissimo che ti aiuta a fare tutta quella che è l'ottimizzazione della SEO dei motori di ricerca del tuo sito internet vatti a vedere anche questo tutorial che ho fatto con la magnifica Caracamenti e te lo lascio anche in descrizione ma torniamo a noi abbiamo questo file che cosa dobbiamo fare adesso? andare qui andare a fare copia link accertarti che sia messo che chiunque abbia il link e lo copi una volta che l'hai copiato adesso ce l'abbiamo in memoria diciamo che vogliamo utilizzare questo Phantom ok? che cosa ci chiede adesso questo Phantom? ah ti voglio far vedere caso mai caso mai caso mai tu sia in Phantom Buster in questa in questa sezione qui e non sappia dove andarla a cercare se vuoi capire da dove si trova semplicemente vai nella parte dei Phantom vai nella parte di tutte le categorie e cerchi qui data ok? una volta che esce data esce il data scraping crawler bene una volta che l'hai trovato ti ritrovi all'interno della schermata che ti ho fatto vedere lo puoi utilizzare allora in questo momento in realtà avevo già quello lì creato quindi torno un attimino sulla dashboard e andiamo a ripreare questo data scraping crawler che ho già qui ora che cosa che dobbiamo andare a configurare andiamo a vedere la parte del setup e stavamo nella schermata in cui ci siamo trovati prima quindi che cosa che possiamo andare a fare possiamo fare scraping ovvero possiamo andare a ricercare informazioni all'interno di una pagina internet di un link di una URL e questo che lui ci dice è puoi scegliere una di queste opzioni la prima è mettere il link di un singolo website www.automatic.com con l'https davanti oppure puoi prendere un google sheet oppure un url noi abbiamo in memoria il google sheet che abbiamo salvato quindi ci sono degli specifici setting se hai per esempio più pagine più colonne ma in questo caso noi andiamo avanti abbiamo ripulito la prima colonna e quindi la prima colonna che dobbiamo utilizzare è quella delle mail quindi non darà problemi e adesso eccole qui i 7 hack cioè all'interno di un unico strumento tu puoi scegliere se per ognuno di quei file cerchi solo il numero di telefono il numero di telefono e ad esempio la mail oppure la pagina facebook instagram twitter linkedin e youtube ovviamente più informazione gli chiederai di cercare più il crawler il bot il robot scandaglierà la rete ma ci metterà tempo e perché te lo dico perché nel piano gratuito hai 10 minuti al giorno di attività poi dopodiché devi aumentare i minuti investendo in un piano più ampio io ti farò vedere ad esempio che cerchiamo in questo momento ad esempio solo profili di instagram ok per andare veloce e andiamo avanti gli possiamo dire bene ma quando si deve interrompere questa automazione questo robot quanto quanto deve andare avanti e quando si deve invece ritenere soddisfatto ad esempio si può ritenere soddisfatto se ha visitato solo la home page se ha visitato l'home page e i link adesso collegati vedi che c'è scritto all the pages linked to it vuol dire tutti i link collegati alla home page oppure 2 livello numero 2 quindi i link e i link dei link normalmente le informazioni più interessanti si trovano tra il primo e il secondo livello quindi il livello 0 te lo sconsiglio salvo che non abbia delle esigenze particolari e le può andare a cercare o nel primo livello o nel secondo livello io per questioni di rapidità oggi ti metterò semplicemente quello che è il primo livello dopodiché ti dice quando si deve interrompere ecco visto che noi in questo momento stiamo cercando solo il profilo instagram non lo facciamo interrompere solo al primo livello ma potremmo dirgli interrompiti se hai cercato se hai trovato già una mail ma noi la mail non la stiamo trovando quindi non si interromperà mai interrompiti se hai cercato per esempio la mail oppure il numero di telefono ma in questo caso noi stiamo cercando solo quando ha trovato il social network perché noi stiamo cercando in questo momento solo instagram ma ripeto tu li puoi selezionare tutti ci metterà solo un po' più di tempo bene l'altra cosa che puoi dire è dopo chi ha cercato dopo 10 pagine perché tu stai cercando nelle connessioni della home page metti che il sito abbia 100 pagine ok tu stai cercando tutti i link del primo livello dopo la home page non finisce più e allora lui dice fa ma capire dopo 10 pagine va bene mi posso fermare tu gli puoi mettere il numero che vuoi ovviamente vale sempre la regola che più lavoro gli fai fare più tempo ti serve andiamo a salvarlo e poi ti dice eventualmente quanto è il tempo che devo aspettare in millisecondi tra un'operazione e l'altra per evitare di essere troppo aggressivo con il motore di ricerca che ti potrebbe bloccare che potrebbe dirti che sei un cattivone o una cattivona che stai utilizzando un'automazione tu sei furba e gli aspetti un pochettino per uno scopo diciamo di didattico io lascerò a zero questo parametro in realtà non dovrebbe darti particolari problemi se attivi soprattutto questa seconda opzione ovvero in questo caso qui cancello l'opzione che cerchi solo 5 e analizzi scandagli scrapping scrapizzi solo 5 5 link per lancio di modo che ogni volta che tu fai un lancio ne cerchi solo 5 e nessuno ti dice niente quindi non c'è bisogno di bloccare di aspettare i mille secondi perché stai cercando informazioni in questo caso solo del profilo linkedin ma di tutte le connessioni i 7 hack di cui ti ho nominato ebbene lo puoi fare tranquillamente dopo 5 dopo 5 blocchi di 5 ecco puoi anche dirgli che puoi fare differenti ricerche per lo stesso sito e poi anche per esempio dirgli che deve visitare solo le pagine per esempio che cominciano con e-commerce se stai cercando una categoria particolare in più gli puoi dire che il file si chiama risultati ris io scrivo direttamente andiamo avanti perché ci sono le opzioni di lancio ed è qui che c'è la magia potresti cercare ad esempio che vuoi analizzare sempre i tuoi competitor oppure vuoi andare cercando informazioni per migliorare il tuo profilo link di instagram tweet quello che ti pare oppure il numero di telefono per l'indagine oppure email per fare poi un'attività no di mail marketing spamming no 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 tu sei saggio sei saggia vuoi fare magari un'attività di mailing per scollezionarli magari targettizzarli con delle pubblicità di google di facebook oppure con quello che ti pare bene questa cosa qui la puoi ripetere in automatico ad esempio puoi fare in modo che in questo caso io la lancerò manualmente una volta sola ma potresti dire che si ripeta una volta due volte quattro volte otto volte per giorno per settimana l'altra cosa che gli puoi dire è per esempio che ti deve mandare delle notifiche in caso di errore questa è una cosa che ti consiglio e poi puoi dire in caso di successo invece va tutto bene oppure ti puoi dire se ci sono una serie di matching io ti consiglio almeno di farti mandare in caso di errore una notifica una mail in questo caso per una questione solo didattica la tolgo e vai a salvarlo adesso lui ti dice ciccio guarda tu stai cercando cinque indirizzi internet che abbiano una mail che stanno cercando bla 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 ti fai il riepilogo tu dici che bello lanci l'automazione adesso partono i secondi ok che quindi vedi che ti dice qui guarda sta facendo un'esecuzione di questa attività e quindi io ti sto scalando normalmente sono secondi vedi che ti aggiorna ti dice guarda io sto cercando la prima la seconda la terza pagina sto cercando queste informazioni e volta per volta ti scala secondi ci mette davvero pochissimo davvero davvero poco ed ecco qui che stiamo arrivando praticamente al completamento di questo scandagliamento del web alla ricerca dei profili Instagram di queste cinque indirizzi internet che gli abbiamo dato in pasto dopo la ricerca aspettiamo ancora qualche secondo siamo al 94% ci dice che ha cercato cinque indirizzi di quelli che gli abbiamo dato ed ecco qui abbiamo detto che ne ha processato i quattro delle 31 pagine che ha cercato andiamo a vedere quelli che sono i risultati qui ti dice quello che è il log ovvero ti dà uno storico delle attività che ha fatto il robottino andiamo a tornare al phantom andiamo dalla parte qui se vogliamo scaricarlo lo troviamo qui altrimenti basta cliccare vedi su RIS gli abbiamo detto che si doveva chiamare RIS andiamo a cliccarci andiamo a vedere che cosa ha trovato ad esempio ha visto che non ha trovato nessun errore e andiamo a vedere andiamoci a scaricare direttamente il CSV andiamo a vedere che cosa ha trovato in questo risultato tac ha trovato in questo momento non ha trovato nessun indirizzo internet di questi perché sono magari dei siti TripAdvisor The Fork e via dicendo quindi non ha trovato necessariamente link specifici io ti faccio vedere questo che è un lavoro che avevo fatto prima a parità di condizioni e lui quello che ha trovato sono appunto dei profili Instagram può succedere che lui non trova nulla soprattutto se la ricerca è molto generica poco geolocalizzata su un'attività dove ci sono dei grossi player sul mercato quindi è importante che tu vada a monitorare ragione per cui ho cercato di fare una ricerca di questo tipo lo vado a monitorare su questa scheda qui ok lo vai andare a vedere quali sono i ristoranti che ti escono è TripAdvisor il primo è The Fork il secondo e poi ci sta di nuovo ecco qui questo magari non l'ha trovato ma non lo utilizza e poi ci sta Roma Today e poi ci stanno ok hai bisogno io ho fatto una ricerca a titolo esemplificativo ma quello che è l'importante di questa attività ripeto di marketing di web marketing di online marketing di digital marketing del marketing che te pare beh l'attività specifica è puoi utilizzare queste informazioni che vai a fare scraping in maniera del tutto automatica ricorrente gratuita non hai nessuno sbattimento devi solo andare a controllare magari che il link sia stato aggiornato e vai a prenderti le nuove informazioni per fare un'attività appunto di marketing etico che ti può davvero aiutare a vendere di più senza stress grazie in questo caso a questa specifica automazione di business se sei però ghiotto ghiotta di altre automazioni ti interessa scoprire strumenti e strategie che ti possano aiutare davvero a mettere il pilota automatico al tuo business non ti resta che iscriverti a questo canale attivando l'automazione gratuita che youtube ti mette a disposizione e si chiama campanella tu ti iscrivi iscrivi al canale attivi la campanella e youtube guarda un po' ti manda una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo contenuto che ti può aiutare a semplificarti la vita molto bene molto bene molto bene che cosa mi resta da dirti mi resta da dirti che abbiamo chiarito il primo punto abbiamo chiarito il secondo punto ti avevo promesso dei bonus e degli approfondimenti in generale se ti va lasciami un bel mi piace per sapere se questo tipo di hack ti può essere utile magari scrivimi se hai domande o se hai commenti scrivimi qui sotto degli spunti oppure di come pensi di utilizzarlo se hai domande se hai dei dubbi scrivimi parliamo è l'unico modo che abbiamo ed è anche un modo gratuito in questo momento la sezione dei commenti qui sotto ma ti avevo promesso degli approfondimenti e quindi ti invito a dare un occhio come hai fatto per la parte dell'email a freddo ti invito a dare un occhio e ti faccio rivedere a parte tutti i link che trovi in descrizione ti faccio vedere la grafichetta perché c'è un corso bellissimo che stiamo facendo che si chiama vantaggio competitivo ovvero come utilizzare degli strumenti specifici di web per capire quello che sta facendo la tua concorrenza e come andarti a prendere dei clienti trovi il link in descrizione è un corso fantastico e ti lascio a due video particolari che ti possono davvero aiutare a andare a mettere qualche altra automazione all'interno del tuo business come sempre un abbraccio forte dalle canarie e buone automazioni a tutti ciao a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.